È un evento che dimostra la sensibilità sociale del maggior operatore al mondo della comunicazione, Google, perché dà l'idea di un'impresa che non è soltanto protesa al business, come è naturale che sia, ma è anche attenta alle ricadute sociali della propria attività. Per cui bene ha fatto Google, il motore di ricerca, a promuovere un'iniziativa di consapevolezza e crescita, perché è l'unica via possibile per coniugare l'utilizzo di Internet con le esigenze della tutela delle persone. A mio avviso è praticamente tutto, perché si ha voglia di tentare soluzioni legislative, di attendere l'intervento della giurisprudenza, ma i primi difensori di se stessi devono essere gli utenti della rete. E se c'è cultura, non c'è consapevolezza, non c'è soprattutto coscienza dei rischi che, accanto alle grandi opportunità, alle potenzialità, ma dei rischi che comunque comporta la rete, è praticamente inutile ogni altro intervento all'esterno. Quindi queste iniziative vanno nella direzione giusta.